Buongiorno a tutti, sono sempre Vittoroso on Top. Sigla! Allora, finalmente è finito il periodo Oscar. Le dico finalmente perché nonostante io personalmente lo ami, è anche vero che quest'anno è stata particolarmente pesante tutta la situazione perché dovevo recuperare tutti i film in tempo per la cerimonia guardandone anche due a sera e facendo le ore molto piccole. In mezzo a questo c'erano le live su Twitch, i video sul canale YouTube, il lavoro come talent manager, insomma ne ho fatta una pelle e mi sto trascinando appresso sia la stanchezza del pre Oscar che quella del post Oscar perché comunque la live per seguire la cerimonia è sempre molto pesante perché si finisce tardissimo. Io due ore dopo la live lavoro quindi rimango stanco per due o tre giorni però mi sto riprendendo e per riprendermi mi sono messo a guardare qualcosa di leggero. Quindi ho voluto dare una chance a una serie disponibile su Netflix da qualche giorno che si chiama Zero, una serie italiana. Si parla di persone con superpoteri. Credevo che mi sarei potuto rilassare guardandola e non penso di aver mai commesso un così grave errore nella mia vita perché Zero, questo è il nome della serie è veramente un'ecatombe. È un po' come lavarsi il viso con il guano di pepistrello. È come degustare una bella zuppa calda e scoprire in seconda mente che è composta da sterco sciolto e riscaldato di bufalo. Piuttosto che riguardarmi questa porcheria immonda preferirei sinceramente farmi legare ad un motorino e iniziare a fare sci sull'asfalto con il culo nudo perché veramente ragazzi io era tanto tempo che non vedevo una serie realizzata così male. Io non capisco perché Netflix si ostini a investire su prodotti italiani toppando il 90% di quello che fa. Qualcosa di buono ne è venuto fuori. Ad esempio in tanti si erano accaditi su Curon. Curon secondo me non è una serie così brutta come si dice. Anzi a me era piaciuta abbastanza pur con tutti i suoi difetti però almeno la storia che raccontava era interessante sicuramente può esserci di meglio ma c'è decisamente di peggio Scam Italia a me non fa impazzire perché non sono in target però diciamo che volendo si può anche apprezzare però poi ci sono robe come Luna Nera come Baby cioè capito fanno ogni tanto delle cappellate incredibili quindi hai i soldi per investire su programmi su serie italiane ma perché non proviamo per una volta una volta a cercare di capire quali sono gli errori da non fare. Questa serie è tratta da un romanzo di Antonio Di Chele Di Stefano che non conoscevo. È un personaggio attivo nel mondo della musica. Mi dicono che è consulente di tanti rapper ho notato che o è amatissimo oppure non è molto apprezzato perché molti sostengono che commercializzi troppo i rapper portandoli sì a successo ma facendo loro perdere la cazzimma. Io questo non lo so perché non conoscevo il personaggio so solo quello che mi hanno detto può essere che sia semplicemente l'opinione di alcuni però non è neanche questo il punto perché sì è vero Zero ha un po' a che fare con il mondo dell'hip hop perché effettivamente ci sono dei brani rap se non sbaglio web pequeno ha presentato con questa serie in anteprima un suo brano la cono sonora è stata curata anche da Marrakesh quindi insomma ci sono delle cose interessanti a livello musicale e infatti forse è l'unico motivo per cui un minimo si salva. Peraltro alcune delle canzoni che sono all'interno della serie a me personalmente non fanno impazzire però ci può stare. È una serie che bisogna contestualizzare perché è rivolta a un pubblico giovane e non è una questione che io non sono in target perché un conto è non essere in target con un prodotto. Un altro discorso è non sapere come si sceneggia, si dirige, si recita, si fa tutto in una cazzo di serie ma andiamo con ordine ci saranno spoiler per cui siete avvisati ma io devo parlare in maniera specifica di questa roba allucinante. Io vi giuro sono quasi in difficoltà perché non so da dove iniziare l'idea era quella di fare una cosa in stile Il ragazzo invisibile di Salvatores due film tra l'altro esistono di quel brand tutti e due con grossi difetti soprattutto nella recitazione ma che a me comunque tutto sommato non erano dispiaciuti perché c'era un'idea di base che era molto interessante era molto riferita ai comics americani, era un progetto multimediale, c'era anche il fumetto insomma ci hanno provato, si hanno fatto il secondo perché probabilmente il primo non era andato poi così male quindi era un progetto quello che potevo già più capire ma questo zero secondo me ha un suo potenziale, aveva perché non l'ha sfruttato un suo potenziale è la storia di questo ragazzo nero Omar che vive al barrio in periferia di Milano e scopre di poter diventare invisibile ok va bene vediamo che cosa tirano fuori mi sono detto e che cosa hanno tirato fuori una serie che si perde in drammi teen scritti malissimo e che tira fuori le idee potenzialmente interessanti solo nell'ultima puntata peraltro facendole uscire a cazzo di cane apprendiamo che Omar è un ragazzo che ha perso la madre ma non nel senso che è morta la madre era stata portata via ma non si capisce bene il perché questa parte è tutta confusa capiamo che è cresciuto con il padre con la sorella che è un fumettista e disegna questa cosa esce fuori solo convenientemente e soprattutto quando lui diventa invisibile perché hanno applicato questo effetto che lo rende quasi una sorta di fumetto animato no? è come se fosse un mosaico in faccia l'idea è buona l'effetto fa veramente cagare sembra come quando ai filmini del battesimo per fare le scene un po' diverse mettevano il filtro color pastello quello che ti rendeva tutto un fumetto sembra i filtri preimpostati di windows movie maker e io dico da una serie italiana netflix mi aspetterei un minimo di sforzo in più quanto meno per quanto riguarda gli effetti non dico tanto però vabbè e sappiamo fin da subito che lui la cui voce narrante ci accompagna solo ogni tanto e non si sa il perché lui che cosa fa? ha questo problema per cui ha la fobia delle immagini dipinte ogni volta che si trova di fronte a un quadro ha questa faccia non mi piace il bacio di Klimt non è che ti spieghi il perché c'è un motivo che è legato al quadro della madre che ha in camera che probabilmente gli ricorda questo trauma infantile è stato lì che lui per la prima volta ha usato l'invisibilità ok e sostanzialmente lui fa il runner fa quello che va in bicicletta a consegnare il cibo ora già qua c'è una cosa che non dovrebbe essere un grosso ed enorme difetto per l'amore del cielo ma non mi convince perché non è la realtà delle cose io non abito a Milano ma sono stato spesso a Milano e non mi pare di averlo mai visto fare ma correggetemi se sbaglio perché è una cosa importante in quanto è da lì che parte un po' il motore della storia cioè lui sale nella casa delle persone sale lì e entra in casa per farsi dare i soldi ora io non so come funziona qui ma di solito funziona che ti chiamano tu scendi dai soldi e ti consegnano la pizza o comunque il cibo che hai ordinato non ho capito perché lui entri nella casa delle case della gente tant'è vero che a un certo punto lui entra in casa di questa ragazza che sta litigando ferocemente con il suo ragazzo blocca la porta di uscita cioè è l'unica casa nel mondo in cui si blocca la porta per uscire cioè capisco il codicillo che serve per entrare ma la porta che si blocca per uscire vi giuro non l'avevo mai vista poi magari esiste ma è un presupposto di una stupidità talmente incredibile che io ho pensato ma perché dovrei credere a questo presupposto quando è così strano lui che entra in casa la serratura che si blocca per l'amor del cielo non sono i difetti peggiori della serie non sto dicendo che la serie mi abbia fatto cacare per questo motivo ci mancherebbe altro però sono quelle piccole cose che servirebbero a renderti credibile ciò che poi arriva dopo perché lui rimane lì ad accarezzare l'animale domestico di questa ragazza che quando il ragazzo va via si gira lo vede in casa e si spaventa e lui dice no 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 scusa è che mi hai chiuso dentro e le ha ok ovviamente si inizia ad avvicinare a lei chiacchierano e lui è subito cotto e innamorato inizialmente l'idea mi sembrava quella di parlare un po' di razzismo e all'inizio sembra che lo vogliono fare con lui che dice mi sono sentito invisibile per tutta la vita ma non pensavo di poterlo diventare davvero e tu dici ok ci sta mi piace l'idea di far collimare il discorso sui superpoteri con il discorso riguardante il fatto che il protagonista sia nero che vive in una periferia degradata peccato che poi questa cosa venga leggerissimamente proprio persa di vista c'è nelle prime 2-3 puntate e poi basta tra l'altro le puntate durano poco più di 20 minuti a volte arrivano quasi alla mezz'ora sono abbastanza brevi e devo dire che a livello di qualità dell'immagine ci siamo cioè si vede che hanno usato delle macchine da presa molto avanzate a livello tecnologico il problema è che se hai una macchina da presa di questo livello devi anche saperla muovere è pieno di scavalcamenti di campo e di momenti che mi hanno fatto pensare ma chi cazzo è che ha diretto questa serie peraltro di che le di cui parlavo prima ha gestito tutto quanto in part cioè nel senso era anche lui coinvolto nel progetto non si sono limitati a trarre la serie dal suo romanzo è lui che se non sbaglio era anche la scrittura ha supervisionato tutto benissimo ok lui parlando con la ragazza che dice che stava litigando con quello che ormai è il suo ex perché effettivamente lui non voleva che lei andasse a Parigi lei è un aspirante architetto eccetera è stato fuori che anche lui vorrebbe andare in Belgio ma non sa come dire a suo padre che è un po' dispotico e lei dice no tu non hai capito devi cambiare le cose anche tu vivi al barrio dici che non ti piace cambia le cose lui tutto ringalluzzito che si sente di stare innamorandosi di questa ragazza quando torna al barrio alla mattina tra altre cose lui era andato a consegnare le pizze non aveva altre consegniere a fare il suo capo non dice un cazzo fai una roba del genere in realtà ti licenziano a calci nel culo ma questo è un altro discorso lui va a casa e praticamente trova questo motorino bruciato in fiamme se ne sta per sbattere i coglioni si ricorda le parole di lei e si mette a spegnerlo per tutta risposta arriva questo ragazzo un polosco che dice ah sei tu pezzo di merda e lo inizia a inseguire con la pistola fino a questo bugigattolo in un palazzo dove lui sparisce e diventa invisibile e questo è il presupposto della prima puntata che io dicevo ok va bene la prima puntata mi ha fatto pensare dio mio ma che cosa sto guardando e vi spiego anche il perché al di là dei dialoghi che sono la roba più confusa e assurda del mondo e ai limiti del credibile perché ripeto va bene il target ma qui si sta esagerando perché questo entra nelle case delle persone per fare le consegne rimane chiuso in una di queste case non si deve preoccupare di portare magari altro cibo nessuno lo cerca nessuno chiama per dire ah oh mando cazzo stai che c'è pure una bicicletta mia e si mette addirittura a flertare tutta la notte con questa che ne fa improvvisamente il supereroe del barrio che spegne i motorini con le bottigliette d'acqua cioè ma di cosa cazzo stiamo parlando seriamente io ero lì in credulo e il problema è la recitazione allora è stato detto che sono stati scelti attori che non sono veri attori perché volevano cercare di rendere il tutto più credibile quindi sì prego non sono attori professionisti sono presi dalla strada quando ho scritto questa cosa su instagram i commenti erano solo costituiti da quella specifica citazione perdonatemi ma a causa mia se tu vuoi fare una serie fiction cioè non ispirata alla realtà ma una serie di finzione peraltro tratta da un romanzo di solito si prendono attori che sono professionisti perché un contesto tu devi fare un documentario e coinvolgi persone che non sono attori deve sembrare tutto realistico deve essere tutto realistico allora posso capire ma non siamo nell'epoca del neorealismo il neorealismo voleva rappresentare situazioni guarda un po' reali neorealismo vorrà dire qualcosa il nome di questa corrente se tu vuoi fare un'opera di fiction e al suo interno mi metti tutti gli attori principali che sono effettivamente persone che non hanno mai fatto gli attori il protagonista l'attore che interpreta il protagonista addirittura ha detto che lui fino all'anno scorso faceva il magazziniere quindi vuol dire che non faceva l'attore ed evidentemente non era preparato per fare l'attore come puoi pretendere che la gente si medesimi con i personaggi ragazzi vi giuro la recitazione di questa serie è qualcosa di immondo unito al fatto che i dialoghi sono scritti veramente con il buco del culo ci sono robe come questa noi dobbiamo salvare il barrio tu devi aiutarci a salvare il barrio non voglio aiutarmi a salvare il barrio io non lo so se posso aiutarmi a salvare il barrio se si facesse il gioco alcolico quante volte dicono barrio sareste ubriachi alla prima puntata vi giuro è un continuo barrio qui barrio lì barrio su barrio giù il barrio è molto importante in questa serie e come te lo dipingono come te lo rappresentano il barrio con il solito baretto mezzo degradato con la piazza con la statua davanti e ogni tanto qualche scorcio di case fine il barrio in questa sera in questa serie non esiste realmente continuano a dirti barrio 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 ti mostrano qualche il campetto da basca e così ma non senti l'atmosfera del barrio è questo il fatto ok quindi già questo è un problema se poi mi metti a recitare persone che non lo sanno fare si perpetua questo stereotipo per cui gli italiani non sanno fare serie che abbiano tematiche che vanno oltre il drammone o la commedia vuoi fare come gli americani si dice non fate come gli americani è questo il fatto è per colpa di serie come Zero che c'è questo stereotipo noi possiamo fare serie sui supereroi guardate lo chiamavano Gigrobot non vedono di vedere Freaks Out il problema è che lì c'è dietro un certo signor Gabriele Mainetti che è uno che ha fatto la gavetta e sa come si sceneggia e si gira un film ok c'è una leggerissima differenza secondo me tra quello che fa Mainetti e quello che hanno fatto per questa serie ok quindi lui vuole diventare sostanzialmente un grande fumettista solo che il tizio che l'ha seguito con la pistola Sharif ha degli amici che inizialmente sembrano i cattivi in realtà loro sono i buoni cioè sono dei ragazzi difficili e lo capisci solo perché c'ha una pistola in mano ma in realtà sono tanto bravi ora questo gruppo di ragazzi composto da Sharif quell'altro che vuole fare il calciatore che è uno stronzo epocale tant'è vero che io a un certo punto ho pensato questo secondo me si rivelerà essere cattivo invece no è solo un povero stronzo il personaggio ovviamente io non giudico gli attori a livello personale se fanno non sono bravi a recitare ragazzi lo devo dire ecco una cosa non mi voglio inserire in dissing vari perché qui non si tratta di fare dissing perché è un film che è legato all'ambiente rap non voglio fare nessun dissing all'ambiente rap perché non c'entra un cazzo qua qua si sta parlando di una serie è girata veramente male poi la colonna sonora niente da dire è l'unica cosa positiva ma per il resto per l'amor del cielo ok loro sono persone che secondo me con un minimo di preparazione in più avrebbero anche potuto essere interessanti come attori perché quando sono insieme sono un gruppo affiatato e confesso che un po' di rivolte ho anche sorriso c'è il ragazzo quello un po' più corpulento che secondo me ha un talento naturale poi magari lui è un vero attore non lo so ma io so che il nucleo del protagonista principale non è costituito da attori professionisti per cui diciamo che a livello di sinergia c'eravamo a livello di recitazione no poi Sharif che deve essere il tipo il il gangsta di turno lui ci prova si vede che si è impegnato ma ci sono dei momenti in cui dice delle cose talmente stupide a livello di proprio di 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 sceneggiatura che sicuramente non è aiutato se non sei un bravo attore se non sei proprio un attore è il caso di dirlo e hai anche una sceneggiatura pessima il risultato sarà aberrante è questo il problema quindi loro vogliono capire il segreto di lui perché questo è scomparso e lo lasciare e ti dice oddio oddio che cosa come mai è scomparso viene beccato capiscono che è invisibile e vogliono che lui gli aiuti per per aiutare il barrio sì perché a un certo punto saltano i contatori del barrio l'energia se ne va arriva il tecnico e dice ci vogliono due settimane altrimenti mi date 10.000 euro subito e risolviamo e loro dicono ma non ci abbiamo 10.000 euro chissà perché queste cose succedono sempre a quelli come voi o il razzismo un po' stereotipata come cosa però comunque almeno si pone il problema bene perfetto ma c'è un piccolo problema scusatemi ma questi dove cazzo vivono al barrio o sotto al castello di Dracula cioè io mi immagino il sindaco di Milano in quel momento sono saltati i contatori dell'elettricità del barrio il mio piano per distruggere le periferie degradate sta giungendo al termine e adesso Wilhelm portami una capretta a cui succhiare il sangue ho capito che il senso della scena era far intendere allo spettatore che in periferia non ti aiutano sei lasciato a te stesso ma fino a un certo punto se saltano i contatori che mettono al buio un intero quartiere un'intera zona non è che perché è una periferia allora se ne sbattono i coglioni e ti chiedono il pizzo per fare tutto prima ma scusatemi ma questa è proprio una roba all'americana che da noi non succede perché era successo una volta che c'era stato un blackout in una zona periferica qua intorno lo hanno sistemato subito di sicuro non sono andati a dire voi poveracci starete al buio per due settimane ma ti pare ma ti possono anche far causa ma stiamo scherzando cioè va bene tutto ma è l'invenzione totale cioè queste cose ho capito che non è la realtà ma ambientato in un mondo realistico ma quando cazzo mai succedono queste cose cioè fossimo in un paese in povertà estrema con il governo corrotto fino al midollo e quant'altro ok certo la corruzione c'è ovunque per l'amor del cielo però non siamo un paese in cui vige la legge del più forte cioè il governo comunque qualcosa fa ok quindi mi sembra altamente improbabile che possa accadere una cosa del genere poi magari è successo allora chiedo scusa magari è ispirato una storia vera io questo non lo so può essere che di Chele sia del barrio che questa cosa sia successa effettivamente al barrio allora in tal senso mi cospardo il capo di cenere quello che però emerge da quella scena è che si siano inventati una cazzata in stile film americano negli anni 90 con i ragazzi del quartiere che stavano in quartiere dal magnate dell'edilizia sadico della zona perché c'è anche questa banda di cubani che sfasciano il quartiere e segano la testa alla statua oh mio dio in stile Bart Simpson che sega la testa alla statua di GBD a Springfield io stavo ridendo come un pazzo anche perché scusate oh no hanno distrutto una statua daremo la colpa alla gente del quartiere cioè lì al barrio vediamo solo gente fiera di essere al barrio perché cazzo avrebbero dovuto segare la testa della statua ma poi scusatemi ma quello che non capisco è è una quartiere in cui se salta la luce ti tengono due settimane al buio ma che cazzo gliene frega se è sparita la testa di una statua è proprio la logica che non riesco a capire allora vogliono farsi aiutare per avere quei soldi quei 10.000 euro e che cosa fanno attenzione partita di poker clandestina gestita dalla super cattiva di turno vanno a giocare a poker con lui che bara suggerendogli le carte mentre è invisibile diventano subito super amici e questo il momento prima li seguono con la pistola e il momento dopo no dai ma io voglio che tu mi aiuti ti prego dai aiutaci puoi diventare invisibile sei un super eroe wow va bene ok bellissima come cosa per carità del cielo sono molto ironico come credete che lui si qual è la sua tenuta no da lì in poi si vestirà sempre così proprio tipo cartone animato ha solo una canottiera cioè praticamente indossa una maglietta sopra la maglietta una canottiera da basket che probabilmente cammina da sola se la metti per terra perché ce l'ha da un certo momento in poi in tutte le puntate non se la cambia mai io posso immaginare che cazzo di stato sia quella canotta la canotta della madre di quando giocava a basket con il numero zero qua davanti la serie si chiama zero la canotta con il numero zero eh eh e dietro il cognome della madre stai andando a truffare una criminale che ha palesemente dei superpoteri questo lo sappiamo noi non lo sanno loro però sanno che è una tizia pericolosa tant'è vero che a un certo punto la protagonista femminile quella di cui si invaghisce si innamora il protagonista dice io non ci vado lì perché quella è una mafiosa di merda e lei e lui è lì che sente sente dire quella è una mafiosa lo sente quindi sa che si sta mettendo contro qualcuno il potente e sappiamo che lui non sa controllare l'invisibilità tra l'altro i poteri di questo qui cambiano ogni volta è una volta e se tocca le persone non le può far diventare invisibili ma gli oggetti si se qualcuno prova a riprenderlo la videocamera del dispositivo si incasina ma se è lui a fare un video non si incasina e questa cosa non te la spiegano a un certo punto tocca la sua amata e la fa sparire insieme a lui quando invece non c'è l'uscita con l'amico va bene magari lì sono i poteri che evolvono ma dammi un minimo di spiegazione perché se mi dici che le telecamere impazziscono quando provano a riprenderlo e lui però con in mano la telecamera e il telefono riesce a riprendere tutto c'è qualcosa che non va devi dargli una regola il sistema magico tra così detto così tra virgolette me lo devi spiegare porca puttana perché altrimenti spiegami il senso quindi vanno in questo casino tra l'altro in Italia a Milano la sala poker nessuno che arriva a chiudere non sembra neanche una bisca clandestina perché è una serata di gala cioè io ho capito che vuoi fare una cosa un po' all'americana ma se l'ambiente in Italia devi anche seguire la legge italiana non puoi fare la bisca di poker peraltro non è la bisca clandestina nel palazzo isolato sotto in cantina serata di gala con il tappeto rosso i bodyguard cioè non mi sembra una roba nascosta ma la puoi fare in Italia una cosa del genere perché sembra una sala casino che io sappia la cosa proprio di poker con quelli che puntano migliaia di euro di fish non la puoi fare magari mi sbaglio io le fanno in maniera clandestina ma non tipo seratona tutti che tutti che vanno alla festa VIP ma non è una cosa realistica con questa che è calva con il tatuaggio di medusa qua sulla nuca che si mette queste parrucche la vediamo nelle prime puntate una volta sola nella puntata in cui giocano a poker dopodiché non la vediamo più fino all'ultima puntata e io dovrei pensare oh è la super maxi cattiva ma chi cazzo è questa tra l'altro nel momento in cui va a parlare col protagonista io stavo morendo perché allora attenzione devo fare una un disclaimer non ho niente assolutamente nulla contro chi parla con l'accento calabrese ci sta ragazzi io sono calabrese ok quindi anzi trovo che sia un accento particolarissimo linguisticamente parlando mi interessa pure ma c'è un piccolo problemino se tu mi fai la cattiva che non parla per tutto il tempo e si vede una volta sola e quando arriva inizia a dire cose come adesso ti do una mano capito io so tutto capite che forse forse mi viene un attimino da ridere perché perché cioè non hai messo accenti a nessuno ma perché ce lo deve avere la cattiva peraltro a me è sembrato un accento calabrese magari non lo era ma vi giuro con quell'aspirazione marcatissima io ho riso perché è strano in quel contesto non ho niente contro quel tipo di accento ma avete capito cosa intendo spiegatemi perché mettere questa cosa la vergine si chiama mi chiamano la vergine perché nel frattempo c'è anche la sorella di zero che ha un problema agli occhi ha dei momenti in cui non capisce più niente gli fa male agli occhi non vede nulla e sembra essere collegato al potere di zero perché quando lui usa il potere ecco che gli occhi le fanno male verso la fine vediamo questa che si avvicina a lei le dà questo fazzoletto che se lei se lo passa sugli occhi le risolve il problema e dice io ti conosco e conosco tuo fratello adesso devo andare ma ci incontriremo di nuovo un'altra cosa quando hai ancora quei momenti di smarrimento Awa così si chiama la sorella lasciati andare lei alla fine ha questo problema agli occhi ha un momento di crisi il problema agli occhi guarda in alto e vede sfocato due sagome che conosce sul tetto della scuola vede il ragazzo che abbiamo visto in due scene quindi non possiamo neanche empatizzare e la sua migliore amica che si stanno limonando allegramente lei allora si lascia andare non si capisce bene cosa fa l'amica perché il montaggio in quel momento è una cosa orribile con un tale scavalcamento di campo che io non ho capito esattamente che cosa abbia fatto ma anche lei evidentemente ha un superpotere la fa cadere dall'alto questa si spacca la testa proprio la vedi che è palesemente o morta o finisce in coma questa è l'ultima puntata e vedi la sorella il ragazzo va lì ad aiutarla tutti spaventati che corrono questa è volata da tre piani di testa sull'asfalto il ragazzo la guarda e vedi Awa la sorella di Omar che vede il ragazzo che sta soccorrendo l'amica presumibilmente morta e fa questo ho capito l'intento è quello di far pensare che la sorella sia stata traviata dalla vergine dalla cattivona di turno però questa fino al secondo prima era una studentessa modello che gioca pallavolo preoccupatissima per il problema che ha gli occhi eccetera e letteralmente un istante dopo ha ammazzato la migliore amica ho capito che puoi essere incazzata perché ti sta limonando il ragazzo ci mancherebbe altro ma il fatto che tu veda l'amica con la pozza di sangue il ragazzo spaventato che ti vede e tu sorrida mi sembra una cacata abbastanza allucinante cioè diventi diventi un assassino da un momento all'altro senza neanche costruire il motivo per cui tu sia diventato così ma chi è che l'ha scritta questa serie paperino sotto l'effetto di oppiacei perché non è normale ok così come non è normale che questo che non sa controllare bene la sua invisibilità vada in giro con una cazzo di maglia da basket con il cognome della madre sulla schiena che qualunque cretino potrebbe tranquillamente sgamare però ehi ovviamente in questa serie sono tutti opportunamente degli imbecilli ovvi i personaggi sono tutti al primo all'ultimo da sediate sulle sopracciglia fortissime i personaggi attenzione quindi finti e non esistono si comportano tutti come dei poveri idioti questi che vanno a giocare al poker clandestino che però tanto clandestino non è e poi Sharif che si mette a fare il king del barrio ma si scopre che ha il fratello che il fratello è fantastico il fratello di Sharif è fantastico lui è questo ragazzo ragazzone gigantesco stereotipo del gangster all'americana ma in Italia che ricatta il fratello dicendo scegli o me o gli amici e io dico certo potrebbe anche starci se tu fossi un bravo fratello ma è inutile che ti rimballo la famiglia quando appena questo guadagna due soldi ieri rubi lo picchi e spaventi i suoi amici che cazzo deve scegliere te per che cosa peraltro ha gli arresti domiciliari per spaccio e te lo vogliono far passare come se fosse una vittima del sistema ma scusatemi questo è letteralmente un criminale ma io perché dovrei empatizzare per la scelta di Sharif ma quale malato di mente sceglierebbe di stare dalla parte di un fratello cattivo che spaventa le persone e le minaccia di morte ho capito che è tuo fratello ma è comunque anche un criminale non dico che tu devi disconoscerlo ma quantomeno magari non dire devo scegliere tra mio fratello che è un pazzo criminale mezzo omicida e degli amici che mi hanno dato una grande mano a livello sociale a livello umano negli ultimi tempi chissà chi sceglierò ragazzi va bene la famiglia ma porca puttana con la madre che quando il fratello viene arrestato perché la polizia lo incasta tra l'altro i poliziotti tutti cattivi e stronzi peraltro fateci caso tutti cattivi hanno ecco mi ero dimenticato di questo gli unici altri con l'accento vagamente meridionale sono gli altri cattivi è vero solo i cattivi solo i cattivi hanno l'accento meridionale anche se magari non fan parte della mafia anche il polizzato cattivo c'ha l'accento meridionale è vero questo me l'ho dimenticato tutti con l'accento meridionale per il punto è li senti parlare molto poco l'accento della vergine è una roba che dici boh perché poi parla tanto parla impostatissima l'attrice è anche vagamente bravina ma non c'è nessuno che spicca e poi ragazzi la storia d'amore tra zero e la protagonista lei questa borghese fanno un po' di tiramolla a un certo punto noi capiamo che c'è questa azienda immobiliare la sirenetta che sta mettendo in scacco quelli del barro ha pagato la banda di cubani per distruggere tutto perché così le case si svalutano di prezzo vengono vendute dei soldi e possono riqualificare il quartiere probabilmente avranno visto una puntata di un assetivo americano in cui lo facevano e hanno detto ah questo è figo bello mi piace vediamo che c'è dietro il tizio dell'immobiliare in una puntata nella stessa puntata dieci minuti dopo vediamo zero la protagonista che escono li viene a prendere il padre e tadam il padre è il proprietario dell'immobiliare la sirenetta qualcuno ha visto Spider-Man Homecoming ma non ci ha capito un cazzo perché tu non puoi farmi funzionare quel colpo di scena se mi mostri il cattivo dieci minuti prima della rivelazione tu devi farmelo se vuoi farlo bene tipo il cattivo che me lo mostri ogni tanto mi mostri nella puntata prima che c'è lui nella puntata dopo mi mostri ancora qualcosa arrivati alla puntata dopo ancora tam è il cattivo il padre di lei oh allora lì sì che mi fai il colpo di scena tutto nella stessa puntata nel giro di dieci minuti mi dispiace ma non funziona non funziona in nessunissimo modo punto è questo il problema tra l'altro quando poi lui smaschera tutti perché praticamente vanno a casa del cubano il cubano vanno a casa del cubano che sta parlando con la tizia dell'immobiliare il padre li filma nonostante le tecame impazziscano quando c'ero di mezzo ma vabbè gli amici sono lì si mettono a scappare poi in macchina vengono raggiunti al cubano il cubano a coltelle il tizio un po' più propulente del gruppo che stava mandando il video che lui aveva fatto si scopre che è riuscito a mandare il video e intanto era rimasto semplicemente ferito non era morto per fortuna arrestano tutti e il tizio immobiliare dice va da lui e dice non so come tu abbia fatto pezzo di merda ma hai messo nei casini mia figlia che ha anche la tua ragazza ti rendi conto lui dice no è lei che va nei casini no perché è tutto intestato a lei scusami a parte che non ho capito quanti anni hanno questi sta ragazza avrà al massimo 18 anni no non può averne più di 18-19 l'immobiliare la sirenetta esiste da anni quando cazzo gli ha intestato tutto scusatemi la sirenetta sembra un'agenzia immobiliare estremamente leader nel settore lo sarà diventata nell'arco di qualche anno ma quale notaio fa firmare le carte quella era per forza minorenne non poteva non essere proprio a livello di logica e di calcolo questa era per forza minorenne a parte che quale padre intesta tutto alla figlia e con quell'attività si mette a fare affari con la mafia cioè quale chi chi è la testa di cazzo che farebbe una cosa del genere e il bello che dice anche è colpa tua no testa di minchia è colpa tua che hai intestato la tua azienda a tua figlia facendo affari con la mafia ma che padre di merda sei ma qui gli assistenti sociali ti spaccan la faccia a a a cazzotti se ti vedono fare una cosa del genere capite il problema dov'è proprio non c'è climax poi tra la penultima e l'ultima puntata c'è un timeskip che boh cioè hanno arrestato il cubano perché hanno trovato il video che aveva mandato l'altro ragazzo si è risolta la cosa in famiglia per Sharif insomma boh poi ci sono i mafiosi che non si è capito sono mafiosi che rapiscono la ragazza di zero che diventa invisibile li mette K.O. e poi la vergine gli dice tu adesso vieni con me va con lei e vede questa sorta di messa clandestina in questa zona industriale dove c'è anche il padre presieduto dall'oculista amico del padre che stava curando la sorella e c'è anche la madre che prega la madre l'ha stata portata via dalla polizia non si è capito bene cosa era successo alla madre sta nel fatto che questa serie ragazzi è un fottuto casino cioè veramente non si capisce una mazza è incasinata da un punto di vista narrativo è incasinata da un punto di vista concettuale non ha il minimo senso è recitata malissimo diretta peggio perché diretta e montata scavalcamenti di campo cambi di inquadrature che non hanno il minimo senso non sanno tenere neanche i campi e contro campi ora non è che se c'è un'idea potenzialmente interessante basta quella ci vuole anche una certa perizia sembra fatta senza particolare voglia come a dire ma si dai Netflix ci ha dato i soldi facciamola sta avendo successo per l'amore del cielo non venite però a dirmi eh ma non sei in target no perché io mi entusiasmo ed emoziono anche con film in cui non sono in target come Sean Vita la Pecola non sono un bambino di sette anni ma io li adoro quei film come adoro la serie non vuol dire niente io so apprezzare un prodotto a prescindere dal target poi posso dire magari ok non sono in target ma lo vedo realizzato bene ma dire che questa è realizzata bene target o no considerato è follia mi dispiace non vuole essere un insulto a chi ci ha lavorato so che ci si mette tanto solitamente ci si mette impegno per queste cose capisco che c'è stata tanta fatica mi dispiace esprimermi in questi termini ma io sono incazzato nero perché conosco registi che potrebbero fare dei lavori incredibili che non vengono snobbati alla fine vanno sempre avanti le stesse persone e questa cosa un po' dà fastidio cioè in Italia i tanti giovani bianchi neri di qualunque nazionalità che potrebbero reggerti bene una serie del genere tu vai a prendere gli attori non professionisti presi dalla strada ma mi spieghi il senso così non vai a creare un senso di realismo vai a creare un senso di gente che non sa recitare porca puttana è sbagliato qualcuno mi ha detto eh ma dove non è che ci sono tanti attori neri giovani che sa recitare ma chi l'ha detta sta stronzata ma io ne conosco almeno una decina anche giovanissimi 16-17 anni che avrebbero fatto meglio di questi che ho visto in scena in spettacoli teatrali di piccole compagnie che hanno fatto delle buone performance che sicuramente almeno sanno parlare un minimo davanti a una macchina da presa volendo per cui boh cioè a me questa cosa non piace per niente per non parlare del fatto che gli adulti siano meno tutti stronzi come dire eh i ragazzi sono il futuro i vecchi sono delle merde poi peraltro altra cosa che mi ha fatto morire da ridere la ragazza di zero si accompagna delle amiche che dovrebbero avere la loro età ma sembrano avere 40 anni tant'è vero che in alcuni momenti non capivo chi fosse la madre e chi fosse l'amica vi giuro cioè uno può avere amici di 40 anni il problema è che non te li spacciano per quarantenni non te le spacciano per quarantenni te le spacciano per amiche della sua età che sono palesemente persone più grandi io non so chi cavolo abbia fatto il casting di questa serie ma secondo me si poteva fare di più così a naso eh si poteva fare leggermente lo zicchinicchio in più cazzo io sono allibito allibito ma riuscirà cioè poi poi ci dicono eh Elita le serie italiane sono pezzotte te credo finché prendi attori che non sono attori o comunque che non sanno recitare per forza sembrano pezzotte dai spontanei magari ma la spontaneità non basta cioè se tu hai una storia peraltro una storia poco italiana come direbbe Stanislaw Rochelle fammela bene uno dei problemi del ragazzo invisibile era proprio la recitazione degli attori ma allora hai un esempio come il ragazzo invisibile stai facendo una serie su un altro ragazzo invisibile ma perché non ti studi quello che ha fatto Salvatore e dici allora qua lo migliorerei migliorerei anche questo in modo da non permettere che si facciano paragoni invece no fai gli stessi errori ma peggio porca di quella Eva cioè l'impegno dovrebbe essere molto alto per un progetto del genere invece sembra quasi che boh mettiamoci le canzoni rap mettiamo anche dei singoli in anteprima così viene più gente a guardare la serie ma basta quello basta quello veramente intanto mi hanno detto che c'è Marrakesh che recita io non l'ho visto ma chi era giusto per capire perché proprio vi giuro non non ho non ho proprio capito insomma una serie che secondo me non si salva quasi nulla se non per un soggetto che potenzialmente poteva essere interessante ed è stato reso questa roba che poi invece abbiamo avuto fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa ne pensate io sono assolutamente sopraffatto da questa oscenità incredibile è stata dura arrivare alla puntata finale sono otto episodi ma non è stato per niente facile quindi fatemelo sapere sono molto curioso io vi abbraccio che si è andato ma tanto mi è andato bene e noi ci vediamo al prossimo buon loco che mi dice tutti e noi ci vediamo